Ciao a tutti, oggi voglio inaugurare con voi una nuova rubrica chiamata Civilezze in cui voglio parlarvi di libri o fumetti che ho letto e quindi raccontarvi un pochettino di cosa parlano e cosa ne penso io quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questa idea e se avete magari dei libri o dei fumetti di cui siete un pochettino curiosi che magari avete visto nel room tour di cui vorreste sapere un pochettino di più, fatemi sapere Oggi parto parlandovi di Mars, è uno dei primi fumetti che ho acquistato ed è degli ultimi anni 90, c'è il prezzo ancora in lire quindi sì, è un pochettino vecchio, però secondo me tratta dei temi ancora attuali Mars racconta le vicende di due ragazzi di 16 anni, Kira Aso e Rei Cascino Kira è una ragazza molto timida e introversa e rido perché c'è una scena, proprio all'inizio del manga comunque in cui si incontrano per la prima volta appunto i protagonisti e c'è Rei che chiede a Kira dove trovare l'ospedale non si conoscono quindi e Kira è talmente timida che non gli dice dove si trova l'ospedale ma stava disegnando, prende un foglio e disegna la cartina, le lo dà e scappa via e infatti lui un pochettino rimane così diceva, boh sta ragazza un pochettino strana e infatti questo vi può dimostrare quanto è timida Kira e appunto dico stava disegnando perché una delle sue grandi passioni è quella di disegnare e di dipingere Rei invece è un ragazzo diciamo di carattere opposto a Kira perché è un ragazzo ribelle, molto estroverso, è il ragazzo più popolare della scuola e ha una grandissima passione anche lui che è quella delle moto quindi gli piace tantissimo andare in moto, non soltanto magari da casa a scuola ma fa proprio gareggia, fa proprio delle gare quindi è anche abbastanza bravo, quindi è anche abbastanza conosciuto in questo campo e quindi il suo sogno è quello di diventare un pilota ma Mars non tratta solo di una storia d'amore fra due adolescenti e le loro crisi tira e molla che a noi piacciono tantissimo, vero? Scherzi a parte, Mars tratta di temi secondo me molto forti come ad esempio la violenza, il bullismo e la morte Kira e Rei si conoscono per bene a scuola, sono infatti nella stessa classe e Kira ovviamente già nel loro primo incontro sapeva chi fosse Rei e Rei invece non sapeva chi fosse Kira e infatti la riconosce in classe e rimane stupito perché è una ragazza diversa dalle altre, molto timida, non si fa notare mentre le altre li vengono sempre appresso perché è il ragazzo più popolare, più bello, più interessante e tutte queste cose qua e lui rimane molto curioso di conoscere Kira che è così diversa, che sembra che non gliene freghi niente non gliene freghi niente di lui per intenderci insomma questo non fa altro che scatenare le altre compagne di classe di Kira che se prima la isolavano perché era diversa da loro adesso è ancora peggio, incominciano a minacciarla e quindi le fanno diverse pressioni perché è gelosa appunto del tra virgolette rapporto che si inizia a creare fra Rei e Kira Mars però non tratta soltanto delle vicende scolastiche parla infatti anche delle loro vite all'infuori della scuola e quindi man mano si verrà a conoscere la situazione familiare di Kira direi che sono comunque situazioni molto difficili e che ci faranno conoscere sempre di più questi protagonisti ed è una cosa che ho molto apprezzato perché con l'andare diciamo dei volumi dei fumetti comunque si ha proprio l'impressione di conoscere sempre di più i protagonisti in particolare o comunque i personaggi perché si aggiungono diciamo dei particolari delle storie, delle vicende che ci fanno capire sempre di più su questi due protagonisti un'altra cosa che ho apprezzato molto oltre appunto a questa caratterizzazione molto dettagliata dei protagonisti è come vengono trattati i vari temi quindi ho parlato ad esempio del bullismo delle ragazze a scuola bene, non solo viene spesso trattato il tema della violenza soprattutto anche all'infuori della scuola perché lei è un tipo molto violento e poi succedono cose e tutte queste cose vengono raccontate in maniera per me molto pesante come è giusto che siano infatti perché sono delle cose pesanti e quindi ho apprezzato molto che sia stato dato un giusto peso a queste cose e anche il tema della morte che viene affrontato cioè, non lo so sarà perché io prima leggevo comunque cose diverse però mi ha stupito molto trovare questo tema nel fumetto perché è inutile far finta far finta che sia sempre tutto rose e fiori comunque la vita di non solo degli adolescenti ma comunque può essere anche questo può essere anche difficile si parla anche comunque di suicidio e secondo me è giusto che se ne parli che venga trattato perché comunque non parla soltanto dei lati diciamo felici dello stare assieme ad una persona di provare sentimenti nuovi ma parla soprattutto della vita secondo me quindi ci sono questi due protagonisti che oltre a stare assieme devono far fronte a una serie di difficoltà che aumentano secondo me e alla fine proprio del fumetto noti come i protagonisti sono cresciuti e sono cambiati perché hanno affrontato diverse sfide pur essendo così diversi i protagonisti riescono comunque a trovare un punto di incontro fra di loro e riescono anche ad affrontare assieme tutte queste difficoltà tutti questi avvenimenti che io adesso dico sempre avvenimenti o storie ma è difficile raccontarvi senza non raccontarvi perché comunque non voglio se vi sto a raccontare tutta la storia che gusto c'è poi nel leggerlo? non c'è nessun gusto quindi cerco di rimanere un pochettino vaga ma secondo me è un ritratto molto veritero della vita reale quindi da quando sei a liceo a quando tra virgolette sei grande perché il fumetto appunto c'è proprio questa crescita dei personaggi quindi ho trovato questo fumetto non solo adatto ad adolescenti ma è comunque secondo me un fumetto abbastanza adulto proprio perché tratta diversi temi forti dando il giusto peso e appunto ripeto la cosa che più mi ha colpito è di come vengono affrontate tutte queste situazioni e questa crescita che avviene durante il corso della storia del fumetto spero di non avervi annoiato troppo e di aver spiegato abbastanza cose su Mars fatemi sapere cosa ne pensate se l'avete mai letto se siete curiosi di leggerlo se avete letto altre cose simili insomma sono curiosa di sapere cosa ne pensate fatemi sapere inoltre che cosa vorreste vedere come recensione non è neanche una recensione ci sono io che blattero o qualcosa così scherzavate e fatemi sapere se c'è davvero un libro o un fumetto di cui vorreste saperne di più io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao